Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di CastleCrasher Siamo ripartiti da dove siamo morti, malamente, per poter andare avanti Allora, allora, mmm, che è successo? Ecco, ecco, partita Ok, ok Eccoli i cerviatini, bambi, piccoli bambi Ascolta, ci riusciremo o moriremo male? Non possiamo riuscirci, dai Quando me moriremo male Quando me moriremo male Quattro L'abbiamo detto in due È vero Perché quello di Queenfer sta scorreggendo me Perché c'è la propulsione Che schifo Salta Ok, con i salti siamo migliorati, eh Sì, con i salti sì, ma ora ce l'aspettiamo, dai Vai, ce la possiamo fare Salta, salta, salta Ma mi hai detto così e ho preso la volta Salta Uh, io ho fatta Passare alla porta, non so come Uh, ho passato No, ho passato la porta, mi sa che io ci muoio qua Oh, liscio Oh, proprio Oh, cosa? Sto Sto passando tutte le porte Oh, oh, oh Che è sto miracolo? Uh, salta no Sì, salta sì Guardate la luce prima, ragazzi Guardate la luce prima La luce? Quale luce? Uh, la luce Ecco, ok, ok, ho capito Bravo, Ildan Grande Ragazzi, Ildan, ci hai salvato Ma non finisce più Ma di chi era sto mulino, porca vacca No, sono saltato Ero io È morto, morto No, 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 no No, io te ancora morì qua Oh, non finisce più Ma ti allungo Dovemmè essere finita Sì Che è quello schifo? Ma che faccia? Figaro Quindi adesso dove siamo finiti? Al mare Nella acqua Sono tornata anch'io Oh, è tornata anche Winfrey Ma che bisogna comprare? Soltate su qualcosa Mi chiederemo Ho cerbiato Come si è fatto lì? Oh, ho preso più botte che botte qua Ma che è? I pesciolini, ragazzi I pesciolini Che fai? No, no, no Come si pesce? Oh, io ho il pipistrellino No, è cattivo il pipistrellino Mi sto uccidendo i pipistrellini Pensavo che fosse il mio amico Ma se no Ha tanti gli squali Mi sono cattivi Oh, mi sono cattivi Oh I pesciolini sono cattivi I squali sono cattivi E quel pesce è ancora più brutto Però quello è cattivo Visto? Mi ha tirato una pigna Sono morto Sono morto Ah, poi adesso i dronchi Se può sta Ok, ho ucciso il pescetto Ok, ho le rocce Ok, ho le rocce, ragazzi C'è una mela sotto No Ho preso i pigni Prendete la vita Eh, scusate No 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 Io ci crepo di massi Ci crepo Io sono mori di 10 Io di massi Ho mangiato quasi Mi sono sento sul tizio morto Oh, oh, hai rotto il cacchio Però per cazzo Uh, io salto in basta Eh, mi devo salvare Sennò vado a sbattere contro i massi Uh, liscia, 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 liscia Non mi prenderete mai Voglio la vera Voglio la vera Oh, mia Oh Che cos'è? Oddio C'è un pipistrello che mi menava Mi ha fatto nero Ma sei arancione, vabbè Dai Dai, mi hai dato percorso Poi un pescettino Ok No Ah, ho piaciuto un sasso Io lo so salvato dal sasso Eh, pure gli squali Eh, vaffanbeccolo I pipistrelli Ma che è sto livello Ma era a livello di merda Adesso è a livello Eh, sì, vabbè Dobbiamo schivare i pasti Dobbiamo mettere su altre corsie Ti ha fatto da un beccolo Fatte da un beccolo Iper salti Uh, ho saltato Oh Mia, 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 mia Grazie Oh, mia, mia, mia Mi ha la presa Guardate, uno Guardate, uno Che è un beccolo di cannone Ma chi è, Re? Vai Chi è, Re? Ciao, Re? Dovevi davanti con gli scudi Come gli scudi? Siamo gli scudi Oh, ditemelo Che cazzo è quel coso? Alza lo scudo, Morduk Non me lo ricordo Sono andato dietro alla 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 barca No, mi sta a vire addosso A me Oh Oh, mi sta a tirare a pugni Ah, no, non mi ha preso È affogato, è affogato No, no, no Si, ha affogato un par di ciufoli Guardalo Morduk, mettiti sul pesce Vieni qui Non riesce Mi ha preso lo scudo Così non ti fa male Ciao Salute Dobbiamo proteggerla No, vicino a te Dobbiamo menaglie Oh, piccchiate Buono, buono Ma io se uso la magia Ciao, ma io sto Eccomi Ahia Te ne ho pure un cazzotto Vai detto Vieni qui Ma devi scudarti Metti lo scudo Così non ti fa male Eh no Scudati Non mi ricordo come si fa dai vai 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 l'ho saltato mi ha fregato questa è la piccola che riesca colpillo però ok gli faccio danno le spalle vera stanno a pensa a lui guarda non ce la fa non capisce il senso del del post si che vuole stampa io qui in ferela e la come impenetrabile guarda ci mettiamo di fiumi nel modo giusto che io basta basta siete rimasti voi due siete rimasti in due è una pippa devi usare lo scudo che ce l'hai a fare la palla rompe la palla bella ok spara dai sparate il brutto chiaro come se non fossi in domani ancora dai quanti manca a morire la vita da rapida e metà non sta manca a metà è proprio che siamo in due scusate quando sta fa una cosa del genere uno piccola di euro no no e via lo stesso non più vuoi dire la parola regandone ti aspettiamo mai mai la bocca e posti su quella lingua schifosa paro però come guarda come si accanisce quel gatto marino è così guardato un attento attenti ma se questa qui non si può parlare c'ho paura a sbattivano adesso davanti alla nave ti bisogna anche davanti alla mare non lo sbatte la destra prendi il tronco dove è più salata l'altra vada si è fatto prende t'ha buttato pure dal pesce sopra un pesce sotto raga un pesce sopra un pesce sotto si muore si muore si muore è rimasta qui morta marta marti marti male ma ieri potenzia di potenzia di a che cosa all'armo io ho detto un po di ripresa ok io difesa proprio io no io devo morire basta io sono il kamikaze del gruppo una scuola e magia magia il pesce da dai riproviamo vai riproviamoci prima rimorirci vai non sappiamo come vanno già non dobbiamo rifare tutto quel pezzo ma io posso sali sullo squadro si fa ok ho fatto io voglio un pezzo di legno andiamo andiamo pista dai 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 ah lo sta a via io ieri non so 12 sto a via no è andato il mio tu sei quello giallo si si lo so mi sono ritrovato iper davanti ecco vediamo non ce l'abbia con me se senti regalo schivate qualcuno è che ha scato in acqua mi hanno buttato giù un tronco da sopra città sempre sopra di andando passando da lì però vai il pesce ai parati parati e sta parlando dai picchiami 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 se c'è coraggio dai adesso siamo in 44 avanti vieni vieni ci sono un lato potete massacrarvi vai 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 arcamise ti piace le pigne parate vedo che è puro abbiamo portato alla vita adesso abbiamo capito come funziona guarda quanto ti fa male la mano guarda che è brutto ho detto come io gli tento finisando guarda che figo il rego quanto è brutto mamma mia che è brutta cosa parate ma ho menato alla palla dai eccolo qualcuno ha fatto a livello ma io mi ho girato dall'altro lato pure io ok mi sono rigirato ma guardate ma sto gatto è guidato da quello orsacchiotto bianco si è quello orsacchiotto bianco il nemico vabbè vabbè maledetto picchiamolo ma mia che brutto che è ora lo sto girando uuuh eccolo vai vai guarda come scende uuuh arriva 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 parate parate perchè mi sono girata perchè sei andata indietro senza scudo sei andata indietro senza scudo adesso tutti davanti alla nave davanti mettiamoci dietro una nota qui e spostate no lo rimette qui dove sto io no hai visto infatti e poi la spostate oh porca tutta torta ecco qua no no è stato lisciato dal proiettile il tizio si perchè se lo sto prendendo con il tizio che diamine però vedete mettere qui davanti infatti postate io ho saltato coccodrillo è mio coccodrillo dai 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 che ce la possiamo fa guarda la possiamo fa peccate questa ci sto vicino a voi si era sta bomba uuuh eccolo uuuh uuuh c'era mi chiede no 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 occhiettavo occhiettavo c'è parato ah già ah già ah ti fa male pure no sui io che sto a tirare colpo faccio colpo paro colpo paro tanti 3 2 1 1 1 1 non saltare toglierci ma perché perché ti devi togliere non saltare quanto sei tardo morduga ma uno evita saltando dai mi lo mi ha fatto che c'è però vogliamo che ti insegna ma perché mi ha fatto 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 sono in volo sono in volo dai voglio no io c'è l'ho mi ha fatto quanto sei tardo vuoi spostare quando vieni qua vicino a noi dai vuoi vuoi faccia e si salva la faccia e nemmeno muore è affondato lolle abbiamo finito io l'abbiamo fatta finish pastiglie io ho preso 21 punti che figo e potenziamo di nuovo potenzia 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 ok questa è ripeto il dan un po' di forza e di fan no 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 va bene io non ho preso niente nemmeno io Va bene ragazzi faremo un altro episodio Nella prossima puntata Il prossimo episodio Nella prossima puntata Ciao a tutti ragazzi Ciao